Prima di iniziare con il video ti invitiamo a cliccare sul tasto iscriviti per non perderti i prossimi video. Lascia anche un mi piace. Costantino Vitagliano è indubbiamente il tronista più famoso nella storia di uomini e donne. Insieme a Daniele Interrante, ha aumentato il successo di chi viene corteggiato nel programma di Maria De Filippi. Prima di lui, la figura del tronista non era così conosciuta. Proprio Costantino ha recentemente espresso parole inaspettate e forti contro Maria De Filippi, sorprendendo i fan. Costantino è entrato nello studio di uomini e donne nel 2003 e ha ottenuto immediatamente grande successo, diventando una vera star. Era seguito da molte fan e i giornali di gossip parlavano spesso di lui e delle sue storie d'amore. In un'intervista al messaggero, Costantino ha parlato di quei tempi, dicendo, sapevo come promuovermi bene. Ho fatto ciò che mi chiedevano e ho guadagnato molto. Ero ovunque, album, diari, copertine, calendari. In un anno ho guadagnato un milione di euro solo con le chat telefoniche. Ha anche avuto numerose apparizioni nei locali di tutta Italia. Con la sua scelta, Alessandra Pierelli, hanno formato una coppia molto amata dai fan. Tuttavia, due anni dopo la loro relazione è finita e Costantino spiega il motivo, avevo altro per la testa, mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare. Alessandra si è sposata con Fabrizio Baldassarri e hanno avuto due bambini, Daniel e Liam. Costantino, invece, ha una figlia, Leila, nata nel 2013 da una relazione con la modella Elisa Mariani. Attualmente si considera single, nonostante sia stata Maria De Filippi a portare al successo Costantino, le sue recenti parole sulla conduttrice di uomini e donne hanno sorpreso tutti. In un'intervista al messaggero, l'ex tronista ha detto, io non ho più nulla a che fare con il mondo dei tronisti. Non sono più quello di uomini e donne. Mentre a Radio Club 91 ha affermato, la De Filippi si arrabbia se dite che sono il tronista per eccellenza, lei fa finta di non arrabbiarsi per nulla e fa credere che è troppo intelligente, ma tutti si arrabbiano per qualcosa, anche le persone intelligenti. Io e la De Filippi ci siamo usati a vicenda, ho accettato di essere sfruttato e a mia volta di sfruttare tutto al massimo. Se questo video ti è piaciuto ti invitiamo a cliccare sul tasto mi piace e su iscriviti, per non perderti i nostri prossimi video. Grazie per il supporto.